Questo video riguarda i migliori tre fornetti elettrici ventilati. Il vincitore della qualità nel nostro fornetti elettrici ventilati va al DeLonghi e ho 14902. 5 differenti funzioni, cottura ventilata, cottura tradizionale, grill, funzione scongelamento, mantenimento in caldo. Interno antiaderente con luce interna, termostato da 100 gradi a 220 gradi, timer 120 minuti, luce, forno pronto, che si accende al raggiungimento della temperatura impostata. Incluse due griglie e vassoio raccogli briciole, piatto pizza. Potenza 1400 Watt. Porta doppio strato per evitare le dispersioni di calore e mantenere le superfici esterne tiepide, maniglia con inserto gommato per evitare scottature. Tutte le pareti del forno rimangono tiepide per garantire la sicurezza durante l'utilizzo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Freiafen forno elettrico. Forno a convezione Freiafen con vassoio raccogli briciole in acciaio inossidabile rimovibile, che può essere rimosso e risciacquato direttamente sotto il rubinetto o utilizzato in sicurezza in lavastoviglie, che è facile da pulire e non facile da accumulare sporco. Forno elettrico multifunzione con sei modalità di cottura, convezione, convenzionale, riscaldamento rotante, grill, riscaldamento combinato su e giù, pasticceria, funzione scongelamento. Può soddisfare le tue esigenze quotidiane. Forno a convezione da tavolo comporta a doppio vetro ad alta resistenza che aiuta a mantenere la temperatura. Resistente alle alte temperature, sicuro da usare. Forno a convezione da 1500 Watt con capacità 30 litri. Timer fino a 120 minuti. Temperatura regolabile fino a 230 gradi Celsius. Con spia luminosa di funzionamento che aiuta a controllare lo stato della cottura, base antiscivolo. Lo scopo dell'uso del forno da tavolo Freiafen è migliorare la vita. L'aria riscalda e avvolge il cibo e ottiene un effetto tenero e delizioso. Può essere cucinato senza olio, con meno grassi saturi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel fornetti elettrici ventilati è il DC GMB 9824N. Capacità 24LT. Termostato regolabile da 100 a 250 gradi Celsius. Ventilato, doppio vetro anteriore di sicurezza. Dimensioni esterne. Larghezza 49 cm compresi i piedi in X profondità 33 cm comprese manopole, maniglia e spessori posteriori X altezza 31 cm compresi i piedini. Dimensioni interne. Profondità 27 X altezza 20 X larghezza 29 cm. Potenza 1380 W. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.